Il Consiglio Comunale di Teramo, nella seduta di ieri pomeriggio, ha reso omaggio a Ernino D'Agostino, scomparso pochi giorni fa. Ex presidente della provincia, funzionario del Partito Comunista Italiano, D'Agostino era stato anche consigliere comunale e capogruppo consigliare. A ricordarlo, in una affollata sala consigliare, oltre ad amici e parenti, l'attuale presidente della provincia, Renzo Di Sabatino, l'intera giunta comunale, il sindaco Maurizio Brucchi, la moglie di Ernino D'Agostino, a cui il primo cittadino ha voluto consegnare una targa ricordo. Posso solo dire di aver convissuto con lui dei momenti stupendi, scusate, sono molto commossa. Io ho avuto la fortuna di conoscere Ernino D'Agostino sia in politica ma anche nella vita quotidiana, è una brava persona, è stato detto, ribadito da tantissimi e questo è anche il segno che questo era Ernino D'Agostino, quindi questo è un piccolo riconoscimento che la città ha voluto fare alla sua persona, giusto, voluto. Intanto il Partito Democratico e Teramo Cambia chiede di avviare una discussione per la possibilità di intitolare un luogo pubblico alla memoria del compianto Ernino D'Agostino. Ernino merita assolutamente che sia avviato questo discorso sull'intitolazione di un'area pubblica degna del suo percorso di vita politico e istituzionale. Il suo legame con la frazione di San Nicolato Ordino ci ha indotto, che è stato dimostrato pienamente nel corso del funerale, lì lui è cresciuto e ha, diciamo, così iniziato il suo percorso di vita politica umana e istituzionale, ci ha indotto appunto a individuare quell'area, l'area dell'ex scuola Carlo Febbo che verrà adesso riqualificata e diventerà, verosimilmente, speriamo presto, un parco verde urbano alla memoria di Ernino. Quello che ha contraddistinto la vita politica istituzionale di Ernino è il fatto che fosse caratterizzato da una grandissima umanità. Per Ernino, prima del Presidente, dell'assessore, del Consigliere, veniva l'uomo e il grande rispetto che lui ha sempre avuto per gli altri si è tradotto nella sua attività politica, la tutela dei soggetti più deboli, delle persone in difficoltà. È stato un esempio straordinario di onestà e di buona politica.